Resta molto, è stato un messaggio che gli è costato la vita ma che ha lasciato un segno profondo. Oggi i nostri ragazzi sanno di vivere in un policlinico che è intestato evidentemente al nome del professore Giaccone e anche noi quando facciamo la cerimonia di laurea leggiamo una nota che lui scrisse qualche tempo prima, qualche mese prima di morire dove fondamentalmente ribadiva la responsabilità medico-legale del medico in qualunque atto e in qualunque momento della sua azione. Quindi il medico rappresenta un pubblico ufficiale che incarna una funzione di rispetto delle norme e rispetto delle leggi. Quindi per noi è rimasto un messaggio profondo ed è un messaggio che tutt'oggi si celebra nel tentativo di ricordare i più piccoli. Io l'ho vissuto da studente quindi per quanto mi riguarda evidentemente mi lascia sempre un segno profondo perché è un ricordo vivissimo ma deve restare questo messaggio di prosecuzione della legalità come principio fondante della società civile. Questo è un po' il messaggio più importante.